Buongiorno a tutti voi, eccoci qua, abbiamo un Audi Q3, questo è il monitor originale. Una bella macchina tutto quanto, però il cliente non è soddisfatto del monitor originale, si è rivolto a noi per, Stefano, abbiamo qualcosa di tecnologicamente valido che però nello stesso tempo recupera tutte le funzioni della macchina? Secondo voi qual è stata la risposta? Certo che sì, ecco qui il nostro gioiellino, 12.5 pollici, Android 11, 8 GB di RAM, 256 GB di ROM, Apple CarPlay, Android Auto, voi potete dire, Stefano come lo inserisci questo monitor? Non vi preoccupate, lo inseriamo, guardate che differenza, ovviamente a fine lavorazione faremo il video dimostrativo e grazie a voi, perché senza di voi tutte queste dimostrazioni, senza la vostra fiducia, non potevano essere fatte.